E' in fila per il tampone? Sì. Quanto tempo fa? L'ha prenotato? Per due settimane. E' appena trascorso il primo weekend dopo l'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro. Molti cittadini che erano sprovvisti del Lasciapassare Verde hanno assaltato farmacie, centri medici privati ed enti di pubblica assistenza. Alcuni di loro si sono prenotati anche oltre un mese fa. Centinaia di aretini si sono messi in coda anche la domenica sera, pazientando anche fino alle 21 per ottenere la certificazione per poter andare al lavoro il giorno seguente. Quando ha cominciato? Da venerdì prossimo. Quindi dovrà ritornare ancora? Sì, mercoledì. Tutti i servizi predisposti hanno tenuto aperte le loro strutture anche nel giorno festivo e ben oltre i consueti orari di apertura. In molti, sia tra gli operatori che tra gli utenti, non si aspettavano un così grande afflusso di persone. Non va meglio per la gestione degli appuntamenti. In Croce Rossa i posti sono esauriti fino a Natale. Non va meglio nelle farmacie, dove anche il mese di novembre è esaurito per le prenotazioni. Siamo qui con l'infermiera alla Farmacia Comunale 1. Adesso è un momento di calma, ma com'è andata in questi giorni? In questi giorni abbiamo fatto il doppio turno con aumento dell'orario di lavoro perché la richiesta è stata aumentata per i Green Pass che avevano bisogno per il lavoro o varie motivazioni. Quando è stato il picco più alto? Tra sabato e domenica, tra sabato e domenica con il doppio turno. Quindi anche di domenica? Di domenica abbiamo lavorato dalle 8 del mattino fino a ieri sera alle 7 e mezzo. Quanti ne avrete fatti più o meno? Su 120-130 tamponi. A FM in settimana dovrebbe aprire un altro punto tamponi in Piazza Giotto, mentre ci sono tempi più lunghi per la Farmacia di Via Mecenate. Nei centri medici privati si riesce ad accedere quasi in tempo reale o al massimo al giorno successivo della prenotazione. Ma i costi per l'utenza variano a seconda del luogo dove ci si reca e dalla frequenza del tampone, se eseguito in forma singola o in abbonamento. I momenti di maggiore richiesta sono gli orari precedenti o successivi all'orario di servizio dei lavoratori, quindi in prima mattinata o nel tardo pomeriggio. Il grande afflusso un po' sono tutti i giorni, però un po' dipende anche dalla fascia di orario, perché generalmente sono la mattina fino verso le 10-10 e mezzo. Che c'è l'entrata al lavoro. C'è l'entrata al lavoro e ora mi aspetto dalle 11-11 qualcosa per l'orario pomeridiano. Mentre il pomeriggio? Il pomeriggio sempre in base all'orario di lavoro, quando escono dal lavoro generalmente aumentano verso le 5, aumentano le richieste. Fino a che ora vi trattenete? Di solito fino alle 7 e mezzo, le 8 la sera.